Cosimo Forgione è un 2-2 che probabilmente è il risultato più giusto. Sì, è stata una bellissima partita, noi siamo partiti più forti dei loro, poi dopo 20 minuti, dopo che abbiamo fatto il gol, ci siamo abbassati e non è da noi. Loro hanno trovato questo rigore, secondo me non c'era. Abbiamo visto forse un tocco di braccio con la spalla, quindi marino era. Può capitare che l'arbitro sbaglia come sbaglia un giocatore, poi loro hanno preso fiducia, hanno trovato anche questo gol sul calcio piazzato, però si sono affrontate due squadre forti che provano tutte e due a vincere il campionato. A proposito dell'arbitro, perché tante espulsioni, 5 tante ammunizioni, sembrava un bollettino di guerra? Sì, comunque bisogna sempre mantenere i nervi ben saldi, perché comunque una partita si sapeva, una partita sentita da tutte e due le squadre. Sentite sicuramente, grande determinazione, però non è stata una partita secondo me cattiva negli interventi, forse qualche intervento, però tutto sommato nella normalità. Sì, infatti in campo c'è stato grande rispetto, quindi non so perché l'arbitro ha perso un po' di mano la partita, però ci può stare. Noi dobbiamo pensare al nostro cammino, siamo sulla strada giusta. Oggi, gli ultimi 20 minuti, la squadra ha reagito benissimo. Comunque, se durava un po' di più la partita non so come finiva, però abbiamo giocato contro una squadra forte, noi sappiamo della nostra forza e quindi è stato un risultato giusto. L'avete acciuffata al cinquantesimo, quindi in pieno recupero, in quel concitato finale. Noi in un primo tempo avevamo visto Gatto che aveva segnato, invece ci hanno detto poi che è stato fall. Confermi, smentisci? Sinceramente io ho colpito la palla di testa dentro l'aria, quindi quando ho colpito la palla di testa ho caduto verso indietro, la palla è arrivata in mezzo, non so cosa sia successo e poi ho esultato. Ale ho visto che ha battuto il calcio d'angolo, quindi non lo so, mi sembra difficile che abbia fatto gol Ale. Quindi probabilmente è proprio Fall che ha realizzato il gol. Non ti so confermare, però io ero a terra, vedremo nelle immagini, si vedrà chi ha fatto gol. Comunque ringrazio veramente tanto i tifosi che oggi sono stati veramente presenti. La società sta facendo un gran lavoro, il presidente, il direzione Sartiano, il mister, Gaetano, tutti quanti. Dobbiamo continuare così a crederci perché è lunga, è lunga, quindi per vincere un campionato di Serie D è tosta. Senti, c'è stata l'espulsione di un giocatore nel secondo tempo della San Benedettese, voi però avete fatto un po' fatica a trovare le contromisure giuste, magari si pensava che riusciste a pareggiarla prima avendo un uomo in più. Che cosa è successo? È mancata un po' forse la manovra avvolgente, troppi lanci lunghi da parte vostra? Sì, sì, comunque noi non troviamo più spazi perché loro si sono abbassati, quindi è una squadra forte, fisica dietro, non trovi gli spazi, devi comunque alzare sta palla per cercare di trovare una seconda palla o una spizzata. Comunque l'abbiamo pareggiata, se durava un po' di più non so dire, però siamo contenti lo stesso e dobbiamo cercare di migliorare negli errori che abbiamo fatto e sappiamo che la strada è lunga e quindi siamo contenti di quello che stiamo facendo. L'ultimo flash, domenica prossima Termoli per? Il Chieti gioca sempre per fare bottino pieno perché noi lottiamo per un obiettivo importante, quindi dobbiamo cercare di avere fame, quella è la giusta umiltà perché la umiltà ti porta veramente lontano e quindi andremo lì con tutto il rispetto del Termoli perché comunque è una squadra che noi rispettiamo ma sempre con la voglia di portare a casa i tre punti.